ci troviamo sempre sullo 0 a 0, manca pochi minuti alla fine del primo tempo ci troviamo qua a Fara San Martino, proprio sotto la gola e sotto le montagne massiccio della Maiella Matteo, non riusci a fare questa cazzita, bravo lei se devi uscire non gli devi chiamare 0 a 0 vai Michele bravo, bravo Martino vai, 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 vai vai, vai, Teidi, Teidi, calcio di punizione lascia la palla, Martino